Aspetta, mi strossano. Ragazzi buoni! Sei bellissima! Non so dove è finita la golla! Ecco qua! Tra l'altro, col bianco non si vede niente. Opla! Occio qui, vediamo un po'. Oh no! Ale, per favore! Ma no, ma che si vedeva! Cioè, andava... Andava così! Grazie Alessio! Ciao a tutti, ragazzi! È stato bellissimo, ragazzi! Grazie!